Cosa è successo? Come ci sono arrivato qui? Vabbè, ora tocca a te. Qualcuno vuole dei popcorner? Sì! Merda! Il dolore, così inatteso e immeritato, mi aveva chissà perché snappiato la mente. Mi resi conto che non odiavo l'anta della credenza. Odiavo la mia vita, la mia casa, la mia famiglia. Ti senti bene, papà? Ma che è successo? Il mio giardino. La mia falciatrice. Niente sarebbe mai cambiato. Non mi sarei potuto aspettare niente di nuovo. Doveva finire. E finì. Ora, nel mondo oscuro in cui dimoro, cose orribili, cose sorprendenti, a volte piccole cose meravigliose, traboccano continuamente verso di me e non posso contare su niente. Non. Assimo. Non. Non. Non.